Il pianto che tra poco ospiterà il confronto valido per la terza giornata della fase a gironi tra Campania e Veneto, impegnate nel raggruppamento e assieme a Piemonte, Valle d'Aosta e Toscana. Un girone che attualmente vede a quattro punti sia Campania che Veneto, ma con la prima favorita sulla seconda da una miglior differenza a reti. E si comincia. Chames per Haith. All'altra parte per Haith. Forza la giocata ne può approfittare allora la Campania con Menela che finisce a terra, si prosegue, tre contro uno, Vettore ci pensa troppo, serve poi il numero quattro, terzo raddoppio del Veneto. Ha 5.18 dal termine. Immediatamente, ultimo giro di orologio. 40 sul cronometro, i secondi ovviamente. Attenzione al pallone perso da Casizione, si prosegue, non c'è fallo. Allora Russo riconquista Haith che supera con un tocco sotto. Russo serve poi Maddalosso, restituisce ad Haith. Maddalosso, prima il palo e poi la rete del numero 9, Maddalosso che sigla la doppietta e sentenzia il match a favore del Veneto. Prova a chiudere davanti la Campania. A Sizzone, va alla conclusione, Haith se l'allunga. Arriva il suono della sirena che decreta la vittoria del Veneto per 3 a 0 ai danni della Campania. A Sizzone, va alla prossima.